I Molise continuano a susseguirsi drammi a causa del coronavirus. Cinque vittime in queste ore. Un 69enne di Ripalimosani che era in terapia intensiva. Altri due uomini di 71 e 88 anni, rispettivamente di Guglionesi e Termoli, che erano in malattie infettive. Due donne, una 79enne di Civita Campomarano, che ha perso la vita nella propria abitazione, e una 92enne di Sant'Elia Pianisi, che era ospite della RSA del paese. Un elenco infinito e ora le vittime sono 319 vite spezzate dalla furia del Covid, furia che investe altre 121 persone. Sono tanti i nuovi casi su 1.206 tamponi processati, con un tasso di positività al 10%. Il reparto di terapia intensiva torna a essere sold out, 12 i posti occupati. In queste ore è stato ricoverato un paziente di Termoli, si sono aggravate le condizioni di una persona di Larino, mentre altre due sono state trasportate in malattie infettive, e qui i degenti totali sono 71, per 83 pazienti Covid complessivi al Cardarelli. In queste ore centri più colpiti ancora a Termoli, con 23 casi, San Martino in Pensilis 10, Campobasso 9 nuovi positivi, a Petrella e Tifernina invece sono 7, 6 a Boiano e Venafro. 77 invece i guariti, quindi gli attualmente positivi in tutta la regione sono 1.563, in isolamento risultano 1.753 persone.